Gesù Nacque a Betlemme di Giudea quando era re Erode Alcuni magi vennero da Oriente a Gerusalemme e dicevano Dov'è colui che è nato, il re dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorarlo A queste parole il re Erode restò turbato Riunì i capi dei sacerdoti e gli iscrivi del popolo E chiese loro dove fosse nato il Cristo Gli risposero a Betlemme di Giudea come ha detto il profeta Allora Erode chiamati segretamente i magi Si fece dire quando era apparsa la stella E li inviò a Betlemme dicendo Andate e informatevi sul bambino anche io voglio andare ad adorarlo I magi partirono La stella era davanti a loro e li guidava Si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino Al vedere la stella provarono una gioia grandissima Entrati nella casa viderò il bambino con sua mamma Maria Si inginocchiarono e lo adorarono Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra Poi tornarono al loro paese senza tornare da Erode Che voleva fare del male al bambino Che voleva fare del male al bambino